Tassi annui di inflazione sotto lo zero è quella che viene chiamata deflazione, che coinvolge 11 città d'Italia, fra cui Bari. I dati si riferiscono a novembre 2015 e sono stati rilevati dall'Istat. Rispetto al mese di ottobre, le città in deflazione sono passate da 7 a 11. L'Istituto Nazionale di Statistica ha esaminato i capoluoghi e i centri con più di 150.000 abitanti. La riduzione più forte dei prezzi si è registrata a Bologna, meno 0,7%, seguita da Padova, Palermo, Catania, Perugia, Cagliari, Bari, Verona, Venezia, Modena e Aosta. La diminuzione dei prezzi ha come diretta conseguenza l'aumento del potere di acquisto e dunque dei consumi. A Padova la percentuale scende dello 0,4%, a Catania e Palermo dello 0,3%, tasse in ribasso dello 0,2% a Perugia, Cagliari, Bari e Verona, a Modena, Aosta e Venezia, flessione più contenuta, meno 0,1%. Ma a che cosa è dovuta la deflazione e le flessioni più pesanti si sono registrate negli svaghi e nei servizi culturali e di cura della persona, più 0,6% a novembre dal più 1,4% di ottobre e nei servizi di ristorazione, più 0,9% da più 2,1% del mese precedente.